Oggi siamo a Bersonno, qua c'è l'Elite Antonio E sei pronti? Si può partire? Abbiamo poi i mezzi, i pizzette Questa qua non è da Elite, è lo scherzo on Qua già mezzo Elite, mezzo Elite qua Quando si iniziano a scherzare più Qua è da Elite, questa qua è L'UFO Bike che ha diversato i ritrovati Niente L'UFO Bike che ha diversato 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti.